Cari amici, è passato circa un anno da quando ho cominciato a lavorare sul caso di Paolo Gabriele, nato nel 1966, deceduto nel 2020, il maggiordomo di Papa Benedetto, passato alla storia come il corvo con quella tipica accezione dispregiativa che utilizza il gergo giornalistico giudiziario. Un tema molto delicato che oggi mi sono sentito di affrontare per la prima volta pubblicamente sulle pagine di Libero, sul mio blog Cose dell'altro mondo, troverete il link in descrizione. Allora, così come l'inchiesta Codice Ratzinger ha ribaltato di 180 gradi la mielosa e incoerente narrativa sull'avvicennamento tra Papa Benedetto XVI e Bergoglio, anche la figura di Paolo Gabriele passata alla storia con un'aura assolutamente negativa, secondo me dovrà essere completamente rivalutata. Non un maggiordomo instabile mitomane che tradisce il Papa, ma un suo fedelissimo e devoto amico, un santuomo che dietro preciso incarico, almeno fin dal 2006, copiava e costruiva per conto del Papa documenti importanti e a un certo punto, come da programma, ha compiuto un servizio di utilità fondamentale che gli fu richiesto dallo stesso Papa Benedetto. Paolo Gabriele ha così messo a repentaglio la propria vita, la vita della propria famiglia, la sua reputazione, per servire la Chiesa di Cristo. Ora io sono giunto a tale conclusione sia per metodo logico induttivo, inserendo la sua figura all'interno della macro strategia di Papa Benedetto, sia analizzando gli scritti di Papa Ratzinger in tipica restrizione mentale larga, cioè in codice Ratzinger, quello stile comunicativo, come sapete tratto dalla teologia morale che consente di dire la verità in modo logicamente sottile. Attenzione, questo studio che si fa sul linguaggio di Papa Ratzinger è uno studio tecnico, non è una suggestione, cioè se una frase logicamente può sottintendere due significati diversi, questo è un lavoro scientifico. Il Papa è uno solo, può essere Francesco ma può essere anche Benedetto, non è specificato. Quindi non stiamo parlando di suggestioni, impressioni, dietrologie, stiamo parlando dell'analisi del testo. Quindi se su cento frasi, tutte e cento, attraverso l'analisi del testo, possono dire un'altra cosa rispetto alla prima lettura superficiale, quello è un dato oggettivo. Allora innanzitutto cerchiamo di capire perché l'importanza di Paolo Gabriele nella strategia generale di Papa Benedetto. Come sappiamo la declaratio fu scritta in modo veritiero, non ha fatto false dimissioni Papa Benedetto, questo è un errore colossale, non ha mai finto niente. Lui ha detto la verità, l'ha detta in un modo ultra preciso, sottile ma assolutamente veritiero ed esatto. Se poi gli altri, se i nemici hanno voluto scambiarla per un atto di abdicazione, questa è una loro responsabilità, anche perché il dato canonico è chiarissimo. Cioè non è che ci sono ambiguità, Papa Benedetto ha dichiarato di rinunciare al ministerio, un punto e basta, non al monus, come previsto dal canone 332,2. Sapete che questa declaratio doveva essere scoperta nel tempo, nella sua vera essenza, cioè quella di un annuncio autoavverante di sede impedita. Solo dopo che la chiesa agnostico-massonica degli usurpatori si fosse debitamente manifestata, un meccanismo perfetto perché appunto porta a maturazione insieme il grano e la zizzania. Ora, questo congegno anti-usurpazione, come sapete, fu predisposto a partire dall'83 dopo che Papa Wojtyla riceve il dossier di Monsignor Gagnon sulla massoneria ecclesiastica. Quindi, prima di azionare questo piano di emergenza c'era un passaggio assolutamente propedeutico da attuare. Papa Benedetto doveva trovare un modo alternativo di far arrivare sia alla stampa che alla magistratura vaticana tutto il materiale documentario sull'ammutinamento subito, che da un lato avrebbe reso al pubblico gradualmente comprensibili le motivazioni del suo piano, come poi è puntualmente avvenuto. Dall'altro sarebbe servito alla fine per un'indagine canonica prevista nella fase conclusiva dell'operazione con l'applicazione della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, in base alla quale i cardinali hanno il dovere di far rispettare i diritti della sede apostolica. Quindi bisognava che il mondo, che l'opinione pubblica potesse accedere a questa documentazione, al fatto che il Papa era stato di fatto esautorato e minacciato di morte, come da quel morto complotto portato alla luce dal collega Marco Lillo del Fatto Quotidiano. Però, chiaramente, se Benedetto XVI in prima persona avesse denunciato tale inquietantissimo contesto o alla stampa o alla magistratura vaticana, è chiaro che la declaratio come atto spontaneo di dimissioni non sarebbe stata presa sul serio. Questa abdicazione compiuta per stanchezza fisica nessuno l'avrebbe presa sul serio. Quindi, sia il pubblico che la magistratura vaticana dovevano poter recepire questa documentazione, ma senza essere messi in allarme, in modo che l'atto di dimissioni avvenisse in modo assolutamente neutro, con un terreno pulito. Così come poi più o meno è stato. Ecco, immaginatevi che a maggio 2012 Papa Ratzinger denuncia pubblicamente che non lo obbediscono più, che gli vogliono fare la pelle e poi a febbraio 2013 si dimette in modo improvviso, non concordato con i cardinali, senza rinuncia al munus, capite bene che il piano non avrebbe funzionato. Ecco perché bisognava far uscire questi documenti in un modo diverso, alternativo, che lasciasse Papa Benedetto apparentemente estraneo alla vicenda. Ci voleva quindi una figura laterale, ma fidatissima, un amico, un vero uomo di Dio che si sacrificasse, figurando all'esterno come autore di un pazzoide trafugamento e copia di documenti, e che passasse questi documenti ai giornalisti, tipo Nuzzi, custodendoli poi in casa, incautamente, e facendosi arrestare. E così desse modo alla magistratura vaticana di acquisirli e protocollarli. Paolo Gabriele era l'uomo ideale, perché era un uomo molto pio, discreto, fedele fino all'imbero simile, parlava il tedesco, poteva avere credibilmente accesso ai documenti e il mondo avrebbe creduto che li avesse sottratti in un inspiegabile raptus di sacro zelo. Quindi da parte sua Paolo Gabriele ha avuto un coraggio incredibile, una dedizione suprema alla Chiesa per poter accettare di fare questa parte, la parte del corvo, almeno nell'accezione dispregiativa, unanimemente percepita dal mondo. Infatti, guarda caso, dopo meno di tre mesi di carcere, Papa Benedetto lo perdona e gli concede la grazia e lui torna a lavorare a due chilometri dal Vaticano, all'ospedale Bambin Gesù con regolare stipendio. Non è un po' strano? Ma quello che mi ha condotto a, per così dire, avere una ragionevole certezza di quanto affermo, è quello che scrive Benedetto in Ultime Conversazioni, negli interventi dedicati a Paolo Gabriele che sono scritti in restrizione mentale larga. Innanzitutto c'è il riferimento a geografico su San Benedetto il corvo, che offre l'iniziale chiave di interpretazione. In tutto lo scritto dedicato a Paolo Gabriele, Papa Benedetto non pronuncia mai alcun giudizio univocamente negativo o moralmente critico verso Paolo Gabriele. Strano, no? Almeno poteva dirsi addolorato, deluso da questo fedele servitore che lui pensava fedele, invece poi... No, invece non c'è nulla del genere. Come sempre avviene nei suoi messaggi, Papa Ratzinger si appoggia sul senso comune che porta il lettore ad accogliere di primo acchito, una grossolana versione mainstream, ma dal punto di vista linguistico e logico tali frasi sono costruite attentamente e lasciano aperte una seconda lettura più sottile, ma assolutamente lecita. Tra l'altro, proprio per evitare il solito superficialismo dei detrattori, abbiamo sottoposto l'interpretazione di questi testi al professor Scali, Alessandro Scali, d'Antista, che ci risponde. La sua ricostruzione mi pare convincente, comunque perfettamente allineata e congruente con tutte le sue precedenti. Il filologo professor Gian Matteo Corrias scrive, la chiave a geografica da lei brillantemente individuata nel riferimento al corpo di San Benedetto dischiude il secondo livello di lettura, di uno snodo particolarmente delicato. Nelle risposte di Benedetto XVI è infatti ravvisabile, come indubbiamente accade in altri passaggi del medesimo libro intervista, la messa in opera del solito meccanismo allusivo e anfibologico che costituisce la cifra comunicativa del pontefice ritirato dalla declaratio in poi. Ecco, adesso non vi leggerò tutti i passaggi che troverete nell'articolo linkato in descrizione, ma solamente alcuni dei più importanti. Allora Sevald chiede, come il suo santo patrono San Benedetto anche lei ha trovato sulla sua strada un corvo, come è stato chiamato il suo aiutante di camera Paolo Gabriele, che ha sottratto documenti confidenziali. Quanto la colpì questa storia? Ecco, già la domanda, come spesso accade, è stata posta in modo opportuno, perché il corvo, secondo l'episodio a geografico citato da San Gregorio Magno, era amico di San Benedetto. Mangiava le molliche alla sua tavola tutti i giorni ed esegui l'ordine del santo di portare via e gettare in un luogo inaccessibile un pane avvelenato che gli era stato inviato in dono da un prete invidioso di nome Fiorenzo che odiava San Benedetto. Leggo in un articolo sul blog di Aldo Maria Valli che si trattava di un impostore che usava l'abito per aver assicurato una buona posizione sociale economica, che viveva in modo dissoluto, addirittura guarda caso dilettandosi di magia e carezzando i culti pagani. Manca solo che il prete Fiorenzo fosse devoto alla paciamama e poi abbiamo concluso il quadretto. Allora, come risponde Papa Benedetto? Dice, anche lei ha trovato sulla sua strada un corvo, eccetera, eccetera. Quanto la colpì questa storia? Non mi sono lasciato andare a una sorta di disperazione o di dolore universale, semplicemente mi è parso incomprensibile. Anche considerando la persona non riesco a capire come qualcuno possa volere una cosa simile, con quali aspettative. Non riesco a penetrare la sua psicologia. Allora, innanzitutto ci dice che lui non si è affatto disperato per questa cosa, come hanno fatto gli altri, non mi sono affatto disperato. Non c'è poi nessun giudizio negativo su Paolo Gabriele. Dice, non lo capisco, mi è parso incomprensibile. Non riesco a capire come qualcuno possa volere una cosa simile. Allora, la seconda lettura è, considerando la persona di Paolo Gabriele, che comunque aveva una famiglia, un buon lavoro, non riesco a capire come possa aver accettato a suo tempo di fare un sacrificio simile, per il quale un giorno avrebbe avuto tutto da perdere, l'onore, la reputazione, le amicizie, eccetera. Ecco, molto importante questo passaggio. Come considerò il caso dal punto di vista legale? Per me era importante che proprio in Vaticano fosse garantita l'indipendenza della giustizia, che il monarca non dicesse, adesso me ne occupo io, in uno stato di diritto la giustizia deve fare il suo corso. Il monarca poi può concedere la grazia, ma questa è un'altra storia. Ecco, vedete il tema sul quale io sto insistendo da diverso tempo, cioè il Vaticano è uno stato di diritto dove la giustizia fa il suo corso, quindi non è che Bergoglio è una sorta di imperatore romano, un sovrano assoluto che fa e disfa come gli pare. C'è una magistratura vaticana che segue il suo corso indipendente. E questo è un elemento assolutamente fondamentale. Infatti, lui dice, per me era importante che la giustizia del Vaticano fosse indipendente e che facesse il suo corso, cioè che potesse raccogliere i documenti per poi punire i colpevoli. Non potevo essere io stesso, il monarca, il papa a denunciare quei fatti, altrimenti non avrei potuto attuare credibilmente il ritiro in sede impedita. Io poi ho graziato Paolo Gabriele, ma questa è un'altra storia, diversa rispetto a quella che si è raccontata. Quindi Papa Benedetto non ha perdonato Gabriele nonostante il misfatto, ma l'ha liberato dopo che gli aveva reso un servizio. Ecco, questo è un altro passaggio molto importante. C'è chi si è domandato se fosse possibile per un aiutante di camera completare da solo un'azione tale portata. Che ne pensa lei? I documenti li ha senz'altro sottratti da solo perché non avrebbe potuto averli nessun altro. Attenzione, lui non dice rubare, che ha una connotazione univocamente negativa, ma sottrarre, che ha una connotazione anfibologica, dato che si può usare anche in modo positivo. Sottrarre qualcuno al pericolo, salvare, togliere dalla vista, eccetera. Quindi la risposta si riferisce al solo fatto fisico di sottrarre i documenti, ma non all'ispirazione dell'idea. Ancora una volta una frase del tutto priva di giudizi negativi sull'azione di Gabriele. E qui arriviamo al clou. Ma probabilmente c'erano dei complici, degli amici che l'hanno incoraggiato. Può essere, ma non lo so. Comunque non li hanno trovati. Allora l'altra lettura consentita è non hanno mai scoperto che io ero suo amico e che io lo avevo incoraggiato. Può essere che io sia riuscito a infondere di coraggio, ma questo non lo so. Comunque io ero il suo amico che non mi hanno mai scoperto. Ora, questo fatto viene ripreso anche in Ein Leben di Peter Sevald, dove leggiamo la pubblicazione di Sua Santità, il libro di Nuzzi, fu un eccezionale successo per il giornalista, ma per il suo informatore Il Corbo non segnò altro che la fine. Attenzione qui. Genswein si mise a studiare il libro riga per riga, fino a che non si imbatté in un punto illuminante. Comunicò immediatamente le sue impressioni a Papa Benedetto, e cioè che uno di noi è in combutta con questa persona, cioè con Nuzzi. Posso esserlo io stesso, oppure il mio collega, il maggiordomo, le Memories Dominion o Sor Birgit. Sulla strada giusta lo aveva condotto il facsimile del bilancio annuale della Fondazione Ratzinger del 30 novembre 2011, che era finito direttamente nell'appartamento papale senza passare per altri luoghi del Vaticano. Solo il Papa e il suo segretario potevano averlo visto. Allora Genswein convocò la famiglia papale, teneva in mano alcuni originali di questi documenti stampati nel libro di Nuzzi e disse al maggiordomo, caro Paolo, sospetto fortemente che questi due articoli pubblicati in questo libro siano finiti sulla sua scrivania. Attenzione, siano finiti sulla sua scrivania, perché solo io e lei ne eravamo a conoscenza. Dal momento che non sono stato io rimane solo lei. Poiché Gabriele respinse con vemenza l'accusa, a pranzo Genswein informò il Santo Padre di averlo mandato a casa. È meglio così perché di lui non mi fido più. Allora come vedete quel documento lo avevano visto solo in tre, Papa Benedetto, Genswein e Gabriele. Quelli che avrebbero potuto farlo finire sulla scrivania di Gabriele erano Papa Benedetto, Genswein e Gabriele. Allora Genswein nega, dice non sono stato io, Gabriele nega chi resta a far finire quel documento sulla scrivania di Gabriele? Resta Papa Benedetto. Quindi lui era nel suo pieno diritto di fornire le proprie carte a persone di sua fiducia e ha fatto tutto questo per salvare la Chiesa da un colpo di Stato. Benedetto non ha mai mentito, siamo noi che non abbiamo capito. Quindi secondo me, visto che inequivocabilmente Papa Ratzinger utilizza la restrizione mentale larga in queste frasi, Paolo Gabriele è stato uno dei più fedeli servitori della Chiesa e del Papa ed è incredibile come la leggenda di San Benedetto il Corvo si sia prestata in modo perfetto ad essere funzionale a far comprendere il ruolo di questo maggiordomo che tra l'altro portava anche il nome dell'angelo dell'Apocalisse. Bene cari amici, per discutere di queste e altre questioni vi aspetto il 17 a Civitanova Marche con Gianmarco Landi, il 18 a Udine con l'amico Diego Fusaro, poi il 2 a Torino, il 3 a Pordenone. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti a questo canale.